Bentornati Bucks, io sono Luca Ventura e state guardando il Plank. Donne del futuro, avremo un incontro il 18 gennaio durante il secondo pranzo nella stanza 3106. A tutti i membri per favore venite. Giovedì i Bucks ospiteranno Southwest Miami Doral Academy and Columbus per vedere chi avanzerà verso le fasi finali del torneo FHSAA. La partita si terrà alle 5 e mezza di pomeriggio alla Southdale Senior High School. Per favore venite a supportare il team della vostra scuola. Seniors, ricordatevi di prenotare la vostra foto su foxmar.com. Studenti, se vi servisse recuperare qualche classe importante come matematica, scienze, inglese o storia, per favore andate dai vostri counselor's office per registrarvi per le night school. Le night school inizieranno dal 6 febbraio all'11 aprile, da lunedì al giovedì, dalle 2 e mezza alle 5 e mezza del pomeriggio. Per oggi è tutto ragazzi, io sono Luca e avete appena visto il Plank.